ciao a tutti oggi prepareremo la ciambella al cioccolato al latte il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa ingredienti sono cioccolato al latte fuso farina di tipo doppio zero zucchero semolato latte burro fuso uova vanillina lievito verdolci e un pizzico di sale per decorare cioccolato al latte a pezzi zucchero a velo granella di nocciole andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta posizionando all'interno del boccare la farfalla versiamo le uova lo zucchero semolato e la vanillina e azioniamo il bimbi per 8 minuti a 37 gradi velocità 4 senza misurino rimuoviamo la farfalla dal boccale aggiungiamo il burro fuso il cioccolato al latte fuso la farina il latte il lievito per dolci e il pizzico di sale facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5 il composto è pronto trasferiamolo in una stampa a ciambella del diametro di 22 24 cm ben imburrato e infarinato mettiamo sopra il composto il cioccolato a pezzi lo spargiamo con granella di nocciole adesso facciamo cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa verificare la cottura facendo la prova con uno stecchino la ciambella è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo ciambella al cioccolato al latte grazie e alla prossima ricetta grazie 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 grazie